Marco Toini, oggi protagonista qui a Angolo Tene per il trofeo Sergio Fiora, atleta di casa, dopo un po' che non corrivi più sei ritornato, com'è andata la gara? Diciamo che innanzitutto faccio i complimenti agli organizzatori perché hanno disegnato un nuovo percorso veramente top di quello che si può trovare in giro per la Val Camonica e anche fuori provincia. La mia gara è andata bene perché non pensavo neanche io di fare un ottimo tempo, visto le condizioni fisiche e di allenamento che ho. Ringrazio tutti quelli di Angolo che mi hanno sostenuto durante la gara perché mi hanno dato la sforza e lo slancio per arrivare a tredicesimo. Hai visto oggi tanta gente qui a Angolo, era un po' che mancavi alle gare e da anni che corri, però sembra che il clima intorno all'atletica sia di nuovo migliorato e sia tornato quello di tanti anni fa. Sì, è piacevole vedere quando c'è così tanto entusiasmo intorno a questo sport che negli anni passati è andato un po' in decadenza. Rivedere tanta gente così che si affaccia a questo sport fa piacere e benvengano tutti quelli che hanno voglia di fare fatica.